Ovviamente Raymond non aveva la macchina. A occhio e croce era sui 35 anni, ma in lui c'era qualcosa di adolescenziale, di non del tutto formato. In parte era il modo in cui si vestiva, naturalmente. Dovevo ancora vederlo con un paio di scarpe normali, di pelle. Portava sempre scarpe da ginnastica e, a quanto pareva, ne possedeva in una vasta gamma di colori e stili. Ho notato spesso che le persone che indossano abitualmente un abbigliamento sportivo sono anche quelle che partecipano meno ad attività atletiche. Per me lo sport resta un mistero. Alle elementari la giornata dello sport era l'unico giorno dell'anno in cui gli studenti con il minore talento accademico potevano trionfare, vincendo premi per aver saltato più velocemente in un sacco o per aver corso dal punto A al punto B più in fretta dei loro compagni. E quanto gli piaceva, il giorno dopo, indossare quei distintivi sulla giacca. Come se una medaglia d'argento nella corsa con l'uovo nel cucchiaio fosse una specie di compensazione per il fatto di non sapere usare un apostrofo. Alle superiori l'ora di educazione fisica era semplicemente incomprensibile. Dovevamo indossare un abbigliamento speciale e poi correre all'infinito attorno a un campo. Ogni tanto ci dicevano di prendere un tubo di metallo e di passarlo a qualcun altro. Se non correvamo, saltavamo. Dentro una buca piena di sabbia oppure oltre una piccola sbarra poggiata su sostegne. C'era un modo speciale per farlo. Non bastava correre e saltare. Bisognava prima fare una strana specie di balzo e di saltello. Io chiedevo perché, ma nessun insegnante di educazione fisica, la maggior parte dei quali, per quanto avevo potuto verificare, avrebbe fatto fatica a dire che ore erano, era in grado di fornirmi una spiegazione. Mi sembravano tutte strane attività da imporre a dei giovani cui non interessavano affatto. E anzi, sono sicura che servissero soltanto ad allontanare la maggioranza di noi dall'attività fisica per il resto della vita. Per fortuna io sono naturalmente agile e flessuosa, e mi piace camminare, così ho sempre conservato una forma fisica ragionevole. La mamma prova una ripugnanza particolare per chi è sovrappeso. Che bestia pigra e avida! Sibilava se uno di loro ci passava accanto, con il suo passo da papera. E forse, in qualche misura, devo aver interiorizzato quest'opinione. Raimond non era sovrappeso, ma era flaccido e aveva un po' di pancetta. Non gli si vedeva nessun muscolo, e sospetto che usasse con una certa regolarità solo quelli degli avambracci. Le sue scelte sartoriali non lusingavano il suo fisico poco avvenente, jeans cascanti, magliette larghe con slogan e immagini infantili. Si vestiva più da ragazzino che da uomo. Anche la cura della sua persona lasciava desiderare, e di solito non si irradeva. Non aveva una barba propriamente detta, ma una barbetta ispida a chiazze che lo rendeva ancora più trasandato. I capelli di un biondo sporco da topo, tendente al rossiccio, erano corti e ricevevano il minimo delle cure. Tutto al più una strofinata con un asciugamano ruvido dopo essere stati lavati. L'impressione generale era di un uomo che, pur non essendo esattamente un vagabondo, la sera prima aveva di sicuro dormito male in un ricovero pubblico, o sul pavimento di uno sconosciuto. «Ecco il nostro autobus, Eleanor», disse dandomi un colpetto sgarbato col gomito. «Io avevo già pronta la mia tessera, ma Raymond non ce l'aveva, cosa che si adattava al personaggio, e preferiva pagare un sovrappezzo per mancanza di un minimo di programmazione. Risultò che non aveva neppure le monete contate, e così dovetti prestargli una sterlina. Mi sarei assicurata di recuperarla il giorno dopo, al lavoro». Il viaggio verso la casa di sua madre durò circa 20 minuti, durante i quali gli spiegai i vantaggi di un abbonamento, compreso dove poteva comprarne uno e quanti viaggi bisognava fare per ammortizzare la spesa o addirittura per viaggiare gratis. Non sembrava particolarmente interessato, e non mi ringrazio nemmeno quando ebbi finito. È un conversatore vistosamente privo di raffinatezza. Attraversamo un piccolo complesso residenziale, composto di edifici bianchi e squadrati. C'erano quattro diverse tipologie edilizie disseminate secondo un disegno prevedibile. Ogni casa aveva un'automobile nel vialetto, e tracce della presenza di bambini, biciclettine con le rotelle, un cestino da pallacanestro fissato al muro del garage, ma non se ne vedeva né udiva neppure uno. Le strade portavano tutte nomi di poeti. Wordsworth Lane, Shelley Close, Kids Rise, indubbiamente scelti dall'ufficio marketing della società costruttrice. Erano tutti poeti riconoscibili dal tipo di persone che aspiravano a case simili. Poeti che avevano scritto di urne, di fiori e di nubi vaganti. Basandomi sulle mie esperienze passate, era più probabile che io finissi per vivere in Dante Lane o in Poe Crescent. Paraggi del genere mi erano molto familiari, perché avevo vissuto in case praticamente identiche, in strade praticamente identiche, durante le varie assegnazioni in affido. Lì non c'erano pensionati, non c'erano amici che condividevano l'abitazione, e nessuno che viveva solo, fatta eccezione per il raro divorziato temporaneo. Macchine quasi nuove allineate nei vialetti, due per ogni casa, idealmente. Le famiglie venivano e andavano, e tutto il luogo sembrava in qualche modo provvisorio, come una scenografia teatrale assemblata in fretta e furia che poteva essere spostata da un momento all'altro. Rabbrividì e scacciai ricordi. La madre di Raymond viveva in una linda casa a schiera, dietro gli edifici più recenti, una fila di villette bifamiliari rivestite di ciottoli. Erano alloggi popolari, e lì le strade avevano i nomi di oscuri politici locali. Chi aveva comprato casa, aveva installato all'ingresso porte in PVC U, con i doppi vetri, oppure aveva aggiunto un piccolo portico. L'abitazione della famiglia di Raymond non aveva subito modifiche. Raymond ignorò l'ingresso principale, e girò attorno a un lato della casa. Il giardino sul retro aveva una rimessa, con tendine a rete alla finestra, e un quadratino di prato verde delimitato da una serie di palli stendipanni. La biancheria era appesa con precisione militare, una fila di semplici lenzuola bianche e tovaglie, e poi una di indumenti intimi con elastici impressionanti. C'era un orto, con del rabarbaro lussureggiante, come ai tropici, e file ordinate di carote, porri e cavoli. Ammirai la simmetria e la precisione con cui erano stati disposti. Senza bussare, Raymond aprì con una spinta la porta sul retro, e gridò un saluto, entrando nella piccola cucina. C'era un profumo delizioso di zuppa, salata e calda, che probabilmente si diffondeva dalla grossa pentola sul piano di cottura. Il pavimento e tutte le superfici erano immacolati e ordinati, ed ero certa che se avessi aperto un cassetto o la dispensa, dentro sarebbe stato tutto intatto e distribuito in maniera accurata. L'arredamento appariva semplice e funzionale, ma con qualche lampo di kitsch. C'era un grande calendario con una fotografia sgargiante di due gattini in un cesto, e dalla maniglia della porta pendeva un sacchetto in tessuto, a forma di bambola de modè per riporre le borse di plastica. Sullo scollapiatti c'erano una tazzina, un bicchiere e un piatto, soli soletti. Entrammo in un minuscolo ingresso, e io seguì Raymond nel soggiorno, che a sua volta era candido e profumava di lucido per mobili. Un vaso di crisantemi stava sul davanzale, e un guazzabuglio disorganizzato di fotografie incorniciate e decorazioni era protetto come un sacro reliquiario dalle antine di vetro affumicato di una credenza antiquata. Una vecchia signora in poltrona allungò una mano per prendere il telecomando e silenziare un enorme televisore. Stava trasmettendo quel programma in cui la gente porta delle cose vecchie da far valutare, e poi, se risulta che valgono qualcosa, finge di amarle troppo per venderle. Sul divano oziavano tre gatti, due ci fissarono, mentre il terzo si limitò ad aprire un occhio, e poi riprese a dormire, non ritenendoci degne di una reazione. «Raymond, figlio mio, entra, entra!» esclamò la vecchia, indicando il divano e chinandosi in avanti dalla poltrona per scacciare le tre creature. «Ho portato un'amica dal lavoro, mamma. Spero di aver fatto bene», disse lui andando verso la madre e baciandola su una guancia. Io mi feci avanti e le porsi la mano. «Eleonor Oliphant, lieta di conoscerla!» Lei mi prese la mano, poi la strinse tra le sue, proprio come aveva fatto Sammy. «Mi fa piacere vederti, tesoro. Sono sempre felice di incontrare gli amici di Raymond. Forza, siediti! Vorrai una tazza di tè, ne sono sicura. Con cosa lo prendi?» Fece per alzarsi e solo allora notai il deambulatore a rotelle accanto alla poltrona. «Resta dove sei, mamma. Vado a prenderlo io», intervenne Raymond. «Preparo una bella tazza per tutti?» «Sarebbe bello, figliuolo», rispose lei. «Ci sono anche dei biscotti, i wagon wheels, i tuoi preferiti». Raymond scomparve in cucina e io rimasi seduta sul divano alla destra di sua madre. «È un bravo ragazzo, il mio Raymond», disse orgogliosa. Non sapevo bene cosa rispondere e optai per un breve cenno del capo. «Quindi lavorate insieme. Aggiusti anche tu i computer?» «Santo cielo! Al giorno d'oggi le ragazze sanno fare quasi tutto, non è vero?» Era linda e ordinata, come la sua casa, la camicetta allacciata al collo con una spilla di perle. Indossava un paio di pantofole di velluto color vinaccia, con il bordo di pelle di pecora, che sembravano confortevoli. Doveva essere sulla settantina. E quando le strinsi la mano mi accorsi che aveva le nocchie gonfie come uva spina. «Io lavoro in contabilità, signora Gibbons», precisai. E poi raccontai un po' del mio lavoro. Sembrava affascinata. Faceva cenno di sì con la testa e ogni tanto esclamava. «Ma davvero?» Oppure «Accidenti! Ma è interessante!» Quando ebbi terminato il mio monologo, avendo esaurito le già ridotte opportunità di conversazione che la contabilità mi offriva, lei sorrise. «Sei del posto?» «Eleanor», mi chiese con gentilezza. Solitamente aborro che mi si interroghi in questo modo. Ma era chiaro che il suo interesse era sincero e privo di malizia. Così le dissi dove vivevo, restando sul vago riguardo all'esatta ubicazione. Non bisogna mai svelare il luogo esatto di residenza agli sconosciuti. «Non hai l'accento di qui, però?» Osservò, formulando la frase come un'altra domanda. «Ho passato la prima infanzia nel sud del paese, ma mi sono trasferita in Scozia quando avevo dieci anni», risposi. «Ah, ecco spiegato il perché». Sembrò soddisfatta della mia spiegazione. Ho notato che la maggior parte degli scozzesi non indaga oltre un «a sud», e posso solo immaginare che per loro questa descrizione racchiuda una specie di generica inglesitudine, fatta di regate e bombette, come se Liverpool e la Cornovaglia fossero posti uguali, abitati dalle stesse identiche persone. «Viceversa, sono sempre inflessibili nel sostenere che ogni parte del loro paese è unica e speciale. Non riesco a capire perché». Raymond tornò con il necessario per il tè e un pacchetto di Wagon Wheels su un chiassoso vassoio di plastica. «Raymond», gridò sua madre, «avresti potuto mettere il latte in una brocca, per l'amor del cielo. Abbiamo un ospite». «È solo Eleanor, mamma», obiettò a lui, e poi mi guardò. «Non ti dispiace, non è vero». «Niente affatto», dissi. «A casa uso sempre anch'io il cartone. È semplicemente un recipiente da cui versare il liquido nella tazza. Anzi, probabilmente è più igienico che usare una brocca scoperta», mi viene da dire. Allungai la mano e presi un Wagon Wheel. Raymond stava già masticando il suo. Loro chiacchieravano di questioni irrilevanti e io mi sistemai sul divano. Nessuno dei due aveva una voce particolarmente stridula, così rimasi ad ascoltare l'orologio da carrozza che etichettava rumorosamente sul caminetto. Faceva caldo e solo per un pelo il calore non era opprimente. Uno dei gatti, disteso sul fianco davanti al fuoco, si stiracchiò in tutta la sua lunghezza con un fremito e poi riprese a dormire. Accanto all'orologio c'era una fotografia. I colori sbiaditi dal tempo. Un uomo, ovviamente il padre di Raymond, sorrideva a 32 denti all'obiettivo, sollevando un calice di champagne per brindare. «Quello è il papà di Raymond», disse la madre notando il mio sguardo. E mi sorrise. «È stata fatta il giorno in cui Raymond ha saputo i risultati dei suoi esami». Lo guardò con orgoglio evidente. «Il nostro Raymond è stato il primo in famiglia ad andare all'università. Suo padre gongolava tutto. Avrei solo voluto che fosse ancora qui quando ti sei laureato. Che giorno è stato quello, è Raymond?» Lui sorrise e a noi. «Ha avuto un attacco cardiaco poco dopo che ho iniziato l'università», mi spiegò. «Non è riuscito a godersi la pensione», aggiunse la madre. «Capita spesso». Rimassero entrambi in silenzio per un istante. «Che lavoro faceva?» chiesi. Non mi interessava, ma mi sembrava la domanda appropriata. «Ingegnere del gas», disse Raymond. Sua madre fece un cenno con la testa. «Ha sgobato tutta la vita e a noi non ha mai fatto mancare niente, vero, Raymond?» «Andavamo in vacanza una volta all'anno e avevamo una bella macchina. Almeno ha fatto in tempo a vedere Denise sposarsi. È già qualcosa». Dovevo avere un'aria perplessa. «Mia sorella», spiegò Raymond. «Oh, per l'amor del cielo, Raymond. Troppo impegnato a parlare di calcio e computer, non c'è dubbio. E non credo comunque che a lei interessi sapere quelle cose. I ragazzi, eh, Eleanor?» scrollò la testa verso di me sorridendo. «Questo era sconcertante. Come diavolo si fa a dimenticarsi di avere una sorella? Non se l'era dimenticato, probabilmente. Solo che dava a sua sorella per scontata. Un fatto immutabile e ordinario della vita, nemmeno degno di essere menzionato. Per me era impossibile immaginare uno scenario simile da quanto ero sola. Solo la mamma e io abitiamo il mondo degli olifant». Sua madre stava ancora parlando. «Denise aveva undici anni quando è arrivato Raymond. Una piccola sorpresa e una benedizione. Ecco cos'è stato. Lo guardò con tanto amore che dovete girarmi dall'altra parte. Almeno so che faccia ha l'amore», mi dissi. «Non è cosa da poco. Nessuno mi aveva mai guardato così, ma sarei stata in grado di riconoscerlo, se qualcuno l'avesse mai fatto. «Su, figliolo, tira fuori l'album e facciamo vedere a Eleanor le fotografie di quella prima vacanza ad Alicante, l'estate prima che tu cominciassi ad andare a scuola. È rimasto incastrato in una porta girevole all'aeroporto», disse sottovoce, chinandosi confidenzialmente verso di me. Scoppiai a ridere, vedendo lo sguardo di orrore puro sul volto di Raymond. «Mamma, Eleanor non vuole annoiarsi a morte, guardando le nostre vecchie fotografie», protestò, arrossendo in un modo che qualcuno, immaginavo, avrebbe potuto considerare incantevole. «Per un attimo pensai di insistere, che mi sarebbe piaciuto vederle, ma lui aveva un'aria così infelice che non ci riuscì. opportunamente il mio stomaco emiso un brontolio rumoroso. Avevo mangiato solo un wagon wheel dopo gli spaghetti arrotolati sul toast per pranzo». Lei tossì educatamente. «Resti per cena, vero, Eleanor? Non è niente di particolare, ma sei la benvenuta!» Guardai l'orologio. Erano solo le cinque e mezzo. Un'ora strana per mangiare, ma avevo fame, e mi avrebbe comunque lasciato del tempo per passare da Tesco, tornando a casa. «Ne sarei deliziata, signora Gibbons», dissi. «Ci sedemmo attorno al piccolo tavolo, in cucina. La zuppa era deliziosa, e lei disse che per fare il brodo aveva usato lo stinco di maiale, dopodiché aveva sminuzzato la carne nella zuppa, che era anche piena di verdure dell'orto. C'erano pane, burro e formaggio, e alla fine bevemo una tazza di tè con una torta alla panna». Nel frattempo, la signora Gibbons ci rallegrò raccontandoci le varie eccentricità e malattie dei suoi vicini di casa, e ci aggiornò sulle attività della loro famiglia allargata, che, come a me, anche a Raymond sembravano di scarsa rilevanza, a giudicare dalla sua espressione. Prendeva spesso in giro la madre in maniera affettuosa, e lei reagiva con finto fastidio, dandogli delle pacche delicate sul braccio o rimproverandolo per la sua maleducazione. Io mi sentivo al caldo, completa, e a mio agio, come non ricordavo di essermi mai sentita. La madre di Raymond si sollevò con fatica e allungò la mano per prendere il suo bastone da passeggio. «Soffriva di artrite reumatoidi alle ginocchia e alle anche», mi disse Raymond, mentre lei saliva di sopra, con passo malfermo, per andare in bagno. La casa non era adatta a una persona con una mobilità ridotta, ma la signora Gibbons si rifiutava di trasferirsi, perché aveva trascorso lì tutta la sua vita da adulta, ed era il luogo in cui aveva fatto crescere la sua famiglia. «Allora», disse quando tornò giù, «adesso lavo questi piatti e poi possiamo sederci e guardare un po' la televisione». Raymond scattò subito in piedi. «Siediti, mamma, lascia fare a me, ci vorrà un minuto. Eleanor mi aiuta, non è vero, Eleanor?» Mi alzai e cominciai a raccogliere i piatti. La signora Gibbons protestò energicamente, ma alla fine tornò a sedersi in poltrona, lenta e impacciata, e io udì un breve gemito di dolore. Raymond lavava le stoviglie, e io le asciugavo. Era stato lui a suggerirlo. In qualche modo aveva notato le mie mani rosse e irritate, pur senza fare tanto clamore al riguardo. Mi aveva semplicemente scostato dal lavandino e messo una tovaglietta da tè, piuttosto vivace, con un terrier scozzese che sfoggiava un forfallino in tartan, tra le dita sciupate. La tovaglietta era morbida e fibrosa, come se fosse stata lavata parecchie volte, ed era stata stirata con cura fino a formare un quadrato perfettamente schiacciato. Buttai un occhio sui piatti prima di impilarli sul tavolo, affinché Raymond li mettesse via. Le stoviglie erano vecchie, ma di buona qualità, con sopra dipinte delle rose sciatte e con i bordi dorati sbiaditi. La signora Gibbons vide che le stavo guardando. Di certo non c'era niente che non andasse nella sua capacità di osservazione. «Era il mio servizio di nozze, Eleanor», spiegò. «Pensa un po', fa ancora un figurone cinquant'anni dopo». «Chi? Tu o il servizio?», intervenne Raymond. E lei fece una smorfia di disapprovazione e scrollò la testa, sorridendo. Mentre ci dedicavamo a queste attività, c'era un piacevole silenzio. «Dimi, stai frequentando qualcuno al momento, Eleanor?» chiese. «Mmm, che seccatura!» «Attualmente no, ma ho adocchiato una persona. È solo questione di tempo». Si sentì un frastuono dal lavandino dove Raymond aveva fatto cadere rumorosamente un mestolo. «Raymond», disse sua mamma, «mani di pasta frolla!» Continuava a tenere d'occhio il musicista online, ovvio. Ma dal punto di vista virtuale, se ne stava abbastanza tranquillo. Un paio di scatti su Instagram di quello che aveva mangiato, qualche tweet, aggiornamenti insignificanti su Facebook, sulla musica di altri. Non mi importava, si trattava solo di pazientare. Se c'era qualcosa che sapevo delle storie d'amore, era che il momento perfetto per incontrarci e innamorarci sarebbe arrivato quando meno me lo aspettavo e nelle circostanze più incantevoli. Detto questo, se non fosse successo presto, avrei dovuto prendere in mano la faccenda. «E che mi dici della tua famiglia?» Mi chiese lei, «abita qui vicino? Hai fratelli o sorelle?» «No, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto avere dei fratelli con cui crescere». Riflettei su questa affermazione. «A dire il vero è uno dei motivi di maggiore tristezza nella mia vita», mi sentii dire. Non avevo mai pronunciato una frase simile prima, e anzi, non avevo mai formulato compiutamente quel pensiero fino a quel preciso momento. Mi sorpresi da sola. «E di chi è la colpa, allora?» Una voce mi sussurrava all'orecchio, fretta e tagliente. «Arrabbiata». La mamma. Chiusi gli occhi, cercando di sbarazzarmi di lei. La signora Gibbons sembrò avvertire il mio disagio. «Oh, però sono sicura che questo significa che hai un bel rapporto, molto stretto con tua mamma e tuo papà, no? Scommetto che per loro sei la cosa più preziosa, essendo figlia unica». Mi guardai le scarpe. Perché le avevo scelte? Non mi ricordavo più. Avevano una pratica chiusura in velcro, ed erano nere, un colore che stava bene con tutto. Erano piatte e comode, e salivano intorno alla caviglia per sostenermi. Mi resi conto che erano orribili. «Non fare la ficca naso, mamma!» La rimproverò Raymond, asciugandosi le mani sulla tovaglietta da te. «Sei come la Gestapo!» Credetti che si sarebbe arrabbiata, ma fu peggio. Fu dispiaciuta. «Oh, Eleanor, mi spiace, cara, non volevo farti agitare. Ti prego, tesoro, non piangere. Mi spiace molto». Stavo piangendo. S'inghiozzavo. Non piangevo così smodatamente da anni. Cercai di ricordare l'ultima volta. Era stato dopo che Declan e io ci eravamo separati. E neppure allora erano state lacrime di emozione. Piangevo dal dolore. Perché mi aveva spezzato il braccio e due costole quando finalmente gli avevo chiesto di andarsene. Era assolutamente inconcepibile. S'inghiozzare nella cucina della madre di un collega. Che cosa avrebbe mai detto la mamma? Mi diede un contegno. «La prego non si scusi, signora Gibbons», dissi con la voce prima gracchiante e poi rotta, come quella di un adolescente, mentre cercavo di calmare il respiro, asciugandomi le lacrime sulla tovaglietta da te. Lei si stava letteralmente torcendo le mani e pareva a sua volta sull'orlo delle lacrime. Raymond le aveva messo un braccio attorno alla spalla. «Non agitarti, mamma. Non volevi fare niente di male. Lei lo sa. Non è vero, Eleanor. Ma certo», dissi. Ed impulso mi chinai in avanti e le strinsi le mani. La sua domanda era sia ragionevole sia appropriata. La mia reazione, invece, non lo è stata. Non sono in grado di spiegarmela. La prego, accetti le mie scuse se l'ho fatta sentire a disagio. Lei parve sollevata. «Grazie a Dio, tesoro. Non mi aspettavo delle lacrime nella mia cucina oggi». «Eh già, di solito è come cucini che mi fa piangere, mamma», scherzò Raymond. E lei rise sommessamente. Io mi schiarii la gola. «La sua domanda...» «Mi ha colto di sorpresa, signora Gibbons», aggiunsi. «Non ho mai conosciuto mio padre e non so nulla di lui, neppure il suo nome. Attualmente la mamma, beh, diciamo solo che è... orde combà». Ricevetti i sguardi vacui da entrambi. Ovviamente non ero tra francofoni. «Non la vedo mai. È inaccessibile», spiegai. «Comunichiamo una volta alla settimana, ma...» «Certo, è una cosa che renderebbe triste chiunque, cara. Ovvio che sì», disse lei annuendo comprensiva. «De tanto in tanto tutti hanno bisogno della mamma. Non importa qual'età sia». «Al contrario», precisai. «Casomai un contatto settimanale è fin troppo per me. La mamma e io siamo... «Beh, è complicato», la signora Gibbons a noi comprensiva, spronandomi a continuare. Io, d'altro canto, sapevo che era ora di fermarmi. In strada passò un furgoncino dei gelati, con il claxon che suonava Yankee Doodle a una tonalità fastidiosa, più bassa di qualche hertz rispetto alle note corrette. Mi tornarono in mente le parole, piume sul cappello e maccheroni, da qualche sotterraneo profondo e completamente inutile della memoria. Raymond abbatte le mani, simulando giovialità. «Va bene, il tempo vola. Mamma, vai a sederti. Il tuo programma sa per cominciare. Eleanor, mi daresti una mano a portare dentro il bucato?» Fui felice di aiutarlo, felice di allontanarmi da qualsiasi conversazione che avesse a che fare con la mamma. C'erano varie faccende domestiche per le quali la signora Gibbons aveva bisogno di assistenza. Raymond aveva scelto di cambiare la lettiera dei gatti e svuotare la pattumiera, quindi io avevo sicuramente avuto la meglio con il bucato. Fuori il sole d'inizio sera era debole e pallido. A destra e a sinistra c'erano due file di giardini che si estendevano in entrambe le direzioni. Posai a terra il cestino del bucato. Presi la borsa con le mollette, su cui con un corsivo svolazzante qualcuno aveva premurosamente ricamato mollette, e le appesi al filo. La biancheria era asciutta e profumava d'estate. Sentivo il tonfo sincopato di un pallone calciato contro un muro e un gruppo di ragazze che cantavano, mentre una corda per saltare frustava il terreno. Il clacson allontano del furgoncino dei gelati era ormai quasi impercettibile. Una porta sul retro sbatté e una voce d'uomo fece una sfuriata contro, si sperava, un cane. C'era il canto degli uccelli, un discanto sopra i suoni di un televisore che si spandevano nell'aria da una finestra aperta. Tutto dava una sensazione di sicurezza e di... normalità. Com'era stata diversa la vita di Raymond dalla mia. Una vera famiglia, una madre e un padre e una sorella, rannicchiata in mezzo ad altre famiglie vere. E com'era ancora diversa. Ogni domenica, lì, così. Dopo essere rientrata, aiutai Raymond a cambiare le lenzuola sul letto della madre, mettendo quelle pulite che avevo tolto dallo stenditoio. La sua camera da letto era molto rosa e profumava di borotalco. Era pulita e anonima, non come una camera d'albergo, ma più come un bed and breakfast, pensai. Tranne che per un grosso volume tascabile e un pacchetto di mentine extraforti sul comodino, non c'era nulla di personale nella stanza, nessun indizio sulla personalità della proprietaria. Mi colpì il fatto che, nell'accezione più positiva possibile, la signora Gibbons non aveva davvero una personalità. Era una madre, una donna gentile e affettuosa, di cui nessuno avrebbe mai detto «Era una pazza quella Betty». Oppure «Non indovinerai mai che cosa ha combinato stavolta Betty». O ancora «Dopo la revisione dei rapporti psichiatrici, a Betty è stato rifiutato il rilascio su cauzione perché rappresentava un estremo pericolo per la collettività». Era semplicemente una simpatica signora che aveva cresciuto una famiglia e che adesso viveva in pace con i suoi gatti e coltivava l'orto. E questo era niente e tutto, allo stesso tempo. «Tua sorella ti aiuta con tua madre, Raymond?» gli chiesi. Era alle prese con la coperta e io gliela tolsi di mano. Ci vuole un talento per queste cose e Raymond questo talento non ce l'ha. Mise invece le federe e i cuscini, fiori, balze. «No», rispose concentrandosi. «Ha due figli e le danno un sacco da fare. Mark lavora su una piattaforma marina, quindi di fatto lei fa il genitore da sola. Per settimane di fila. Non è facile. Andrà meglio quando i bambini saranno a scuola», dice. «Ah», feci. «E a te? A te piace fare lo zio?» «Zio Raymond. Un esempio abbastanza improbabile, temevo. Lui fece spallucce. «Sì, sono divertenti. Ma non è una gran cosa, essere sincero. Sgancio un po' di contanti a Natale e per i compleanni e li porto al parco un paio di volte al mese. Fine del lavoro». «Io non sarei mai stata zia, naturalmente. Tanto meglio così, forse». «Stavolta l'hai scampata bella con la mamma e i suoi album di fotografie, Eleanor», disse Raymond. «La prossima volta ti annoierà a morte con i nipotini. Aspetta e vedrai». «Stava presupponendo un po' troppo, mi pareva, ma lasciai correre. Guardai l'orologio, sorpresa che fossero già le otto passate. Adesso devo andare, Raymond», dissi. «Se vuoi fermarti ancora un'oretta, io avrò finito e potremo prendere l'autobus insieme». Naturalmente declinai la sua offerta. Scesi al piano di sotto e ringraziai la signora Gibbons per la cena. «In cambio lei mi ringraziò a profusione per essere andata a casa sua e averla aiutata a sbrigare le faccende domestiche. Eleanor, è stato bello, davvero. Sono mesi che non vado oltre il giardino con queste ginocchia. Perciò è un piacere vedere una faccia nuova e per di più così gentile. Sei anche stata di grande aiuto in casa. Eleanor, è stato bello, davvero. Sono mesi che non vado oltre il giardino con queste ginocchia. Perciò è un piacere vedere una faccia nuova e per di più così gentile. Sei anche stata di grande aiuto in casa. Grazie, tesoro, grazie, grazie mille». Le feci un sorriso. Per due volte in un giorno ero stata oggetto di ringraziamenti e sguardi calorosi. Non avrei mai sospettato che qualche piccola azione potesse suscitare reazioni così sincere e generose. Sentì un piccolo bagliore dentro di me. Non un incendio, ma più una specie di piccola fiammella costante. «Torna quando vuoi, Eleanor. Io sono sempre in casa. Non occorre che tu venga con...» puntò un dito in direzione di Raymond. «Lui, vieni da sola, se vuoi. Ora sai dove sono. Non sei un'estranea». D'impulso mi chinai in avanti e la sfiorai con una guancia, non quella con la cicatrice, ma quella normale. Non era un bacio o un abbraccio, ma più di così non sarei riuscita ad avvicinarmi. «Ciao», disse, «e adesso torna sana e salva a casa». Raymond mi accompagnò in fondo alla strada per mostrarmi dove era la fermata dell'autobus. «Probabilmente avrei dovuto aspettare un po', dato che era domenica», disse. «Io mi strinsi nelle spalle. Ero abituata ad aspettare e la vita mi ha insegnato a essere molto paziente. Ci vediamo domani, allora, Eleanor». Tirai fuori la mia tessera e gliela feci vedere. «Viaggi illimitati!», esclamai. Lui annui e fece un sorrisetto. Miracolosamente l'autobus arrivò subito. Alzai la mano e salì a bordo. Guardai fisso davanti a me mentre ripartiva, per evitare qualsiasi imbarazzo con i cenni di saluto. Era stata una giornata intensa. Mi sentivo prosciugata, ma nella mia mente si era cristallizzato qualcosa. Questa gente nuova, queste nuove avventure, questo... contatto. Lo trovavo soverchiante, ma con mia sorpresa non del tutto sgradevole. Me l'ero cavata egregiamente, pensai. Avevo conosciuto persone nuove. Mi ero presentata e avevamo socializzato, passando un po' di tempo insieme, lontano dai problemi. Se c'era qualcosa che potevo ricavare dalle esperienze di quel giorno, era questa. Ero quasi pronta a dichiarare le mie intenzioni al musicista. Il momento del nostro primo decisivo incontro si avvicinava sempre più. Grazie. Grazie a tutti.